Entra nel vivo il progetto per l'ingresso in Enel di 15 studenti di ingegneria elettrica, ancora prima di aver conseguito la laurea. All'Università di Ingegneria, a Roio, alla presenza di numerosi studenti, c'è stato un workshop di presentazione del programma che si chiama Apprendistato Duale di Alta Formazione per Ingegneri Elettrici del Futuro, istituito a seguito della firma del protocollo d'intesa tra Enel Italia e l'Università dell'Aquila. Il progetto partirà dall'anno accademico 2023-2024 e sarà destinato a 15 studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. Il programma prevede una formazione di qualità con tanti elementi di innovazione legati alla transizione energetica in linea con gli obiettivi del PNRR. Le studentesse e gli studenti selezionati alterneranno le lezioni e lo studio a una formazione tecnico-professionale in azienda e saranno assunti in Enel prima del termine degli studi con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca a tempo indeterminato. Obiettivo del percorso è quello di far conseguire ai partecipanti un titolo universitario arricchito da contenuti formativi altamente professionalizzanti. L'apprendistato si concluderà con il conseguimento della laurea magistrale in Ingegneria Elettrica entro la durata del corso di studi. In Enel questo programma si inserisce nella cornice normativa definita con un accordo sindacale sull'apprendistato di alta formazione e ricerca rivolto ai corsi di livello universitario. Il progetto di alta formazione e ricerca che abbiamo lanciato oggi con Univac è l'evoluzione di un progetto di alta formazione che noi abbiamo già iniziato a sviluppare con l'Università di Roma 3 l'anno scorso. Il progetto dell'anno scorso sviluppato con l'Università di Roma 3 riguarda la laurea triennale. Qui siamo ad un livello 2.0 perché il progetto riguarda i ragazzi che frequenteranno l'ultimo anno della laurea magistrale in Ingegneria Elettrica. Questo intervento dell'Enel è mirato alla formazione dei nostri ragazzi. L'Università dell'Aquila sforna ingegneri elettrici da oltre 50 anni apprezzati in tutto il mondo. Le nostre relazioni industriali ci hanno permesso oggi di stipulare questo importantissimo accordo con Enel per cui i nostri ragazzi del secondo anno della laurea magistrale potranno essere assunti durante il percorso di studi con un ottimo contratto e mettere insieme la formazione accademica e la formazione aziendale in un percorso unico in Italia.